Devo tornare povero, ignoto, ragazzo, non so effettivamente essere padre, padrone, è ridicola la mia influenza, la mia fama. Padre, che cosa mi sta succedendo? Devo tornare povero, ignoto, ragazzo, non so effettivamente essere padre, padrone, è ridicola la mia influenza, la mia fama. Padre, che cosa mi sta succedendo? Una condanna a nove anni e un'infinità di dubbi è quanto rimane ad un anno di distanza della vicenda giudiziaria sull'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Grazie a tutti.